Grazie E' un dog Hai visto che io sono sempre in tema di cani? Cioè in realtà questo testo... Un uomo si incazza un po' però... Però insomma vabbè c'è un suo perché Lei mi dice alla fine Ma te come stai cercando una donna? Stai cercando un cane? Ma che buono! Va! Ma che buono! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.